ciao allora oggi intro un po diverso dal solito ma visto che ho dei giga gratis solo per oggi carichiamo il video del libro che immediatamente prima cosa non ho la cintura perché sono ferma in macchina nel parcheggio con la macchina spenta detto questo oggi sfogliamo insieme l'album numero 3 del liver shea valido fino al 28 marzo 2018 c'è aria di primavera e quindi vediamo subito le novità per quanto riguarda il make up più leggero e poi ora di prendersi cura della bellezza dei piedi delle mani e perché no fare un po un detox al viso e poi non dimentichiamoci dei capelli vi ricordo che l'album è valido fino al 28 marzo 2018 ci sono anche delle promozioni oltre che novità e sfogliamola assieme eccoci allora iniziamo a sfogliare l'album vediamo subito la prima novità eccola ed è la nuova formula per il fondotinta nude questo che è il pur light eccolo qui è un fondotinta intanto senza silicone parabini ed alcol poi comunque è leggero sulla pelle ma ha una buona coprenza quindi ha una coprenza direi media è leggero e ha nuovo applicatore questo a contagocce le colorazioni sono tutte queste e poi ci sono due promozioni una che comprende ogni 25 euro di acquisto di prodotti make up questa trousse molto carina in omaggio e poi con ogni fondotinta acquistato si hanno in omaggio due spugnette eccola qua per l'applicazione questo per ogni fondotinta e comunque questo è la novità 25 euro per avere la trousse fondotinta e in omaggio alle spugnette iniziamo con il set per la detersione del viso quindi questo è il primo della seboge tal che comprende per la pelle di dannista grassa 1295 il gel detergente purificante più la polvere sfogliante che comunque va bene addizionata ad ogni detergente abbiamo anche il gel detergente eccolo la camomilla il purcal mil sempre con la polvere sfogliante questo caso sempre a 1295 e ora di prendersi cura dei piedi quindi eccoci qua set cura dei piedi crema nutriente piedi pur gommage 995 ed è anche il momento di prenderci cura delle mani quindi set cura delle mani crema mani da tante lunga durata e questa è fantastica perché assorbe immediatamente più le sos mani pulite e rapportare sempre dietro è molto comodo ed è a 4 95 è un bel set questo ovviamente il momento anche di prenderci cura dei capelli quindi shampoo più balsamo a 5 euro 95 potete scegliere tranquillamente il lo shampoo che preferite aspettate quello che volete eccolo con il codice nero e il balsamo tra tutti quelli che ci sono quindi non è obbligatorio fare la stessa linea ma anche tra tutte le linee potete mescolarli scegliendolo col codice rosso 5 95 questi sono gli shampoo e poi il balsamo lo trovate sotto esatto sempre 5 95 in uno promozione anche per le labbra ovviamente due balsamo labbra a 3 euro quindi il primo col codice nero secondo col codice rosso e questa è una buona promozione anche per prendersi cura delle labbra e questo era tutto l'album abbiamo visto tutto l'album e visto tutte le offerte quindi vi ricordo che sempre qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini come sempre c'è anche il link per scaricare in formato pdf il catalogo così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi multimediali e non mi resta che augurarvi da questa location un po particolare buoni acquisti naturalmente affumati con il magico natura al mondo di vero sci